Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria al km 266 e 200, tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Varico-Baccheraia. In A11, per lavori di pavimentazione, stanotte, in orario 22.06, sarà chiuso lo svincolo di Alto Pascio, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. Sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate, fino al 30 settembre, senso unico alternato per restringimento della carreggiata al km 15 e 980 nel comune di Vaglia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!